La nascita di un impianto per la produzione di idrogeno verde potrebbe dare nuova vita alla ex CEM interdita in alto e salvare l'occupazione di 51 dipendenti. Ne è convinto il segretario provinciale della filia CGL, Francesco Bardinella, che confida nell'avviso pubblico emanato dal ministro della transizione ecologica Cingolani sulla nascita di impianti verdi in aree dismesse. Una previsione che sembra fatta su misura per lo stabilimento CEM Italy, che chiuderà definitivamente i battenti a settembre dopo oltre 60 anni di storia industriale. Ma adesso serve l'intervento della politica. La filia ha già chiesto un incontro con i vertici della regione Puglia. Sono coinvolti 51 lavoratori attualmente in cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività perché nei mesi scorsi l'azienda ci ha annunciato appunto la volontà di dismettere definitivamente il sito di Taranto. Fino a settembre i lavoratori saranno in cassa integrazione straordinaria appunto, dopodiché saranno disoccupati. Noi abbiamo chiesto un incontro urgente alla task force regionale per l'occupazione, per le aree di crisi, quindi alle istituzioni e all'azienda stessa. Crediamo che ci possano essere degli strumenti, vedi il bando del Ministero della Transizione Ecologica sul recupero di aree industriali dismesse per installare siti per la produzione di torogeno verde, può essere un'idea. Abbiamo chiesto appunto con urgenza questo tavolo di confronto per esaminare questa proposta o eventualmente altre affinché si riqualifichi quell'area e si eviti che questi 51 lavoratori e le loro famiglie cadano in una situazione ancora più drammatica di quella che vivono da anni.